Ci tenevo a un po' di premessa a fare una piccola aggiunta. Come sapete oggi in tutta Italia ci sono delle, per fortuna, molte manifestazioni che chiedono una maggiore attenzione e chiedono soprattutto la pace per questa storia che sta succedendo in Siria. La Turchia che attacca senza motivo, senza ragione un popolo già martoriato da tante sventure e che proprio lo scorso anno aveva combattuto contro l'Isis, aveva sconfitto l'Isis. Allora, ho trovato questo brevissimo testo e ve lo letto. È una poesia kurda in ricordo di Asia, Ramazzone.